Quando si parla di vizi capitali si parla di qualcosa che riguarda tutti quanti e non è mai troppo tardi per mettersi sui banchi di scuola. E quindi noi ci mettiamo verso il centro dello studio per dare il buongiorno e il nostro grazie sempre a sua eminenza e al cardinal Ravasi con cui stiamo facendo un bellissimo viaggio, buongiorno eminenza, si accomodi pure, con cui stiamo facendo un bellissimo viaggio che ci sta portando alla scoperta appunto dei vizi capitali. E abbiamo praticamente quasi ripercorsi tutti, dove ci eravamo lasciati? Ci eravamo lasciati con questi ultimi due che abbiamo voluto unire, anche se di loro natura sono antitetici. Da un lato l'ira, che è l'accensione estrema, il colore rosso tradizionalmente viene usato, rosso sangue. E dall'altra parte invece il grigio della pigrizia, dell'inerzia. Questi due estremi che ci accompagneranno in questa trasmissione sono un po' il sugello di tutta la sequenza degli altri vizi capitali che abbiamo considerato. Pensiamo soltanto, non so, il collegamento ira necessariamente con la superbia. E tra l'altro è interessante parlare adesso dell'ira perché è forse uno dei vizi più praticati orbai nella relazione interpersonale. Pensiamo soltanto che cosa corre sui viali informatici, l'aggressività, la violenza proprio verbale. Tra l'altro l'italiano ha creato una serie di formule, di stereotipi, sono un numero impressionante, dedicate proprio a rappresentare che cosa genera nell'interno della persona anche fisicamente l'ira. L'ira acceca, digrignare i denti, mangiarsi il fegato. Cioè, espressioni che denotano sempre questa radicalità terribile che ha. E in greco, ma ci fermiamo qui ora perché sarebbe interessante sentire la testimonianza ironica anche nei confronti dell'ira, ma anche feroce che è quella della Bibbia. Soltanto ricordando che in greco la parola ira si dice orghè, che è entrata nella nostra parola orgia, ma paradossalmente, e questo ci permette di ritornare al discorso sui vizi e le virtù, paradossalmente vuol dire anche il fremito che ha il creatore, quando sta per scrivere un testo, il poeta, l'artista, qualcosa che gli freme dentro. Per cui c'è anche il positivo. E di fatti noi abbiamo sempre, durante questo lungo itinerario, ricordato che i vizi hanno risolto due volti. C'è il volto positivo che paradossalmente è quello della virtù. E l'ira, come virtù, dovremmo chiamarla, e avremo occasione magari di parlare, è sdegno. Sdegno per l'ingiustizia, per il male. E dall'altra parte anche la pigrizia ha il suo aspetto positivo, perché è naturalmente l'essere riflessivi, l'essere tranquilli, l'essere quieti. E allora, a proposito di scritture, andiamo a vedere che cosa è contenuto nelle scritture a questo proposito dal libro dei proverbi. L'iracondo commette sciocchezze, a differenza del riflessivo, che sa sopportare. Il paziente ha grande prudenza, a differenza dell'iracondo, che si rivela stupido. Una risposta pacata placa la collera. Una frase pungente la eccita. L'uomo iroso suscita liti. Chi è lento ad adirarsi, seda le contese. Iniziare un litigio è come aprire una diga, e allora, prima che la lite si esasperi, troncala. L'uomo avveduto controlla lo sdegno, e la sua gloria sta nel passare sopra le offese. L'ira di un re è simile al ruggito di un leone. Chiunque la eccita rischia la vita. Meglio abitare in un deserto che con una moglie litigiosa è irritabile. Se sbatti il latte, esce il burro. Se schiacci il naso, ne esce sangue. Se spremi la collera, ne esce la lite. La lettura che ci ha proposto Giacomo dal libro dei proverbi ci fa anche sorridere in qualche modo. È la sapienza popolare, tipica, anche antifeminista, come si è sentito. Come no, la moglie litigiosa. La moglie litigiosa, che è tipica di questa cultura. D'altronde, non dimentichiamo mai che anche nella grande letteratura, dobbiamo dire che l'ira, tra l'altro, è stata la base di testi letterari. Potremmo dire quasi il testo padre della nostra cultura occidentale, naturalmente oltre alla Bibbia, è Omero. E chi non ricorda l'ira funesta di Achille, che è il proprio grande incipit di quella tragedia, perché l'ira genera la guerra, genera la lotta. E dall'altra parte anche, io vorrei ricordare, forse il nome tutti l'hanno in mente per la grandezza dell'opera, capolavoro in assoluto, Macbeth, di Shakespeare, e non solo tutta la violenza che c'è in questa tragedia, tutta l'ira anche che si scatena, e soprattutto l'ira che distrugge, e alla fine, che è terribile per stare nel femminile, nell'antifemminista Shakespeare anche, quando Lady Macbeth ha le mani insanguinate e dice che non riesco più a lavarle in nessuna maniera. E tutto questo nasce dall'ira. Ecco, in questo senso direi che la lezione popolare, la lezione colta, si incontrano, e lo vediamo nell'urlato, nel violento che c'è nelle nostre piazze attualmente, il telegiornale che quasi spesse volte, quando entra in cronaca, deve segnalare la devastazione che fa questo vizio. E a proposito della tragedia scozzese di Shakespeareana a memoria, sembra quasi che l'ira sia qualcosa che riesce a sconvolgere tutto quanto, anche l'ordine naturale. Il bello è brutto, il brutto è bello, viene detto da Shakespeare, e addirittura a un certo punto alla fine la profezia di un bosco che si muove, del bosco di Danzinen, viene ad avvenire. Come dire che quasi la natura si ribella in confronti di questa ira, che poi è un po' quella esemplificazione che ci faceva poc'anzi, rispetto al rodersi il fegato, e a tutta quella serie di riferimenti popolari che traducono in linguaggio più concreto e quotidiano quello che l'ira commette. Sì, è vero. Però io vorrei subito a questo punto anche un po' difendere l'ira, mostrare l'aspetto positivo, anche perché c'è un'altra espressione, che tra l'altro è biblica fondamentalmente, che usiamo noi, ira di Dio, tutto unito tra l'altro, l'ira divina. San Paolo parla proprio dell'orghe divina, dell'ira divina. E c'è, è curiosissimo, per esempio, che qui pochi lo sanno evidentemente, chi conosce l'ebraico, la lingua della Bibbia dell'Antico Testamento, quando si deve dire, si deve descrivere fisicamente l'ira di Dio, si usa il termine af, che è naso, vuol dire letteralmente, ma che è onomatopeico, cioè imita lo sbuffare, af, af, di chi sta come un gatto quando tenta di aggredire, per rappresentare lo sdegno di Dio. Ecco, io direi che anche Gesù dimostra lo sdegno e l'indignazione di fronte allo scandalo del male. Non possiamo mai ignorare che impugna la frusta contro i mercanti. Non possiamo ignorare che pronuncia nel capitolo ventitresimo di Matteo una sequenza di guai, di maledizioni. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, ed è violentissimo. Cioè esiste anche una virtù che si chiama l'indignazione per il male e che ai nostri giorni perdiamo perché abbiamo solo l'altra e non conosciamo invece lo sdegno nei confronti dell'ingiustizia, della miseria del mondo, della guerra e così via. lentamente facciamo quasi trascolorare, scolorire questa pulsione che sarebbe positiva e che nella Bibbia tante volte è anche lanciata contro Dio. L'ira che è di Giobbe, per esempio, contro la propria sofferenza, il proprio dramma, ed è un'ira, in questo caso, uno sdegno in verità, che è siglato, sigillato dalla parola di Dio che lo accetta. Questo, Eminenza, ci porta a una storia che vogliamo raccontare e raccontarvi. La storia che vi proponiamo è di Nicola Zattoni, un ragazzo giovanissimo che scopre di avere una malattia che di lì a poco l'avrebbe portato sulla sedia a rotelle. La prima reazione, probabile, umana, poteva essere l'ira, eppure invece la sua reazione è forse il contrario, è il sapersi piccolo e necessitare di aiuto e ci porta anche a collegarci al prossimo, ovviamente, vizio che è quello della pigrizia, il non fermarsi. Vi proponiamo, in ricordo, la storia di Nicola Zattoni. Il mio 2020 era cominciato con tanto lavoro e tanta grinta. Poi, quando ero in Islanda quest'estate, a regosto, ho scoperto che facevo un po' fatica a camminare e avevo bisogno di qualcuno che mi desse il braccio. E soltanto a ottobre mi hanno diagnosticato la SLA in una forma particolarmente aggressiva. Io sono andato in un ambiente cattolico. Ho sempre avuto il desiderio di servire in due significati. Uno nel senso di essere utile e l'altro nel senso proprio di accudire. Da quando ho questa malattia ho bisogno fondamentalmente di tutto. Nel senso che se devo andare in bagno ho bisogno di aiuto. Se devo farmi da mangiare non ce la faccio. E oggi mi chiedo ma a cosa servo se ho bisogno di tutto, no? Prima io viaggiavo tutto il mondo. Vivevo da solo. Facevo quello che volevo dalla mattina di sera. Indipendenza totale. Adesso sono tutta altra cosa. Dipendenza totale. Io ho 36 anni. È terribile, no? Però questa cosa qui che è sicuramente che mi determina, no? Non mi definisce. Sono su una sedia. Sono che ho bisogno di tutto. Ma non sono definito questo. La mia faccia non è quella di uno schiacciato da malattia, depresso. Non vince il male. Non vince l'ASLAM. Cioè io vedo che il Signore agisce nelle pieghe della vita quotidiana. Ha una faccia. Ha dei tratti. Tutte queste persone che mi stanno vicino, che mi stanno intorno sono ognuna un pezzettino di quel voltolino. Perché per esempio ieri sono successi tre, quattro fatti. Un pranzo con un amico ritrovato col quale ha finto tutto per robe vecchie. Oppure una telefonata con una morosa di vent'anni fa. Che il peccato, le cose vecchie, riferite, che non siano l'ultima parola di un rapporto. ma è una grande speranza. Questo è quello che io veramente desidero. E lo desidero più di tutto. Più di camminare, se vuoi. Mi capita di andare a letto che sono contento della mia giornata. questo è il ricordo di Nicola Zattoni e l'orizzonte delle sue parole e l'orizzonte dei suoi occhi rispecchiati anche nelle immagini che abbiamo visto, immagini girate proprio da lui in passato che appunto si trattava di un videomaker. Ci fanno intuire quell'orizzonte che si riesce a scorgere a volte nella vita che va anche oltre quei limiti, quelle barriere che la vita ci pone. Beh, il coraggio certamente di riuscire ad avere dentro di sé lui sicuramente ha avuto tutta quella reazione che faceva il cenno prima attraverso la figura di Giobbe perché non è quando ti piomba addosso questa cosa che non ci sia anche interiormente una reazione fremente. Però dall'altra parte lo stesso Giobbe alla fine riesce a riacquistare dopo aver incontrato Dio riesce a riacquistare questa sorta di serenità che cancella quella sua ira contro Dio precedente. Io ti conoscevo per sentito dire ma ora i miei occhi ti vedono e mi pento qui in cenere e polvere. Cioè lui rimane ancora nel racconto vero o meglio nel poema vero di Giobbe. La finale happy end che viene aggiunta è un'aggiunta posteriore una parabola per cercare di far finire bene un racconto ma lui è ancora lì però dice ormai adesso io ti ho visto e questo mi fa accettare e non più ribellare nei confronti d'altra parte però entra anche forse quell'aspetto positivo che dicevamo della pigrizia quella riflessione quel sapere accogliere quell'essere in silenzio alla fine e riuscire a intuire qualcosa di più profondo per questo motivo sono sempre due volti da tenere presente tra poco arriveremo anche alla pigrizia eminenza però diciamo questo ci porta anche alle radici della fede nel senso che ognuno di noi in qualche modo si affida alla volontà di Dio ci si potrebbe affidare con fatalismo ci si potrebbe affidare con quella pigrizia di dire io sto qua che la volontà sia fatta non mi attivo e invece il vizio che vedremo tra poco ovvero la pigrizia e il suo contrappeso invece ci porta a quel attivarsi attivarsi come per l'ira perché la giustizia sia fatta nella pigrizia perché ognuno di noi possa seguire una strada e tingerla di colori non quel grigio di cui ci parlava prima beh sì c'è un termine italiano che rappresenta bene la degradazione della fede che si abbandona in maniera indifferenziata senza avere quel fremito necessario che è umano anche quando sei colpito ed è la parola fatalismo che è attribuita normalmente alla tradizione musulmana anche se in verità non lo è in maniera esclusiva però è fuori di dubbio che lo stesso Giobbe in apertura nel racconto iniziale che è un racconto anteriore che viene usato come cornice dice Dio ha dato Dio ha tolto sia benedetto il nome del Signore che può essere anche una grande testimonianza di fede ma può essere anche e lui lo smentirà dopo per tutti i capitoli vehementi di protesta può essere anche una forma appunto di fatalismo e allora a proposito della pigrizia vediamo le suggestioni che ancora una volta ci arrivano dalle scritture e in particolar modo sempre dal libro dei proverbi va dalla formica o pigro esamina le sue abitudini e diventa saggio essa pur non avendo un capo un sorvegliante o un padrone si provvede lo stesso il vitto d'estate accumulando cibo al tempo della mietitura fino a quando o pigro te ne starai a dormire quando ti scuoterai dal sonno la mano pigra fa impoverire la mano attiva arricchisce chi raccoglie d'estate è previdente mentre chi dorme al tempo della mietitura si disonora come aceto ai denti e fumo agli occhi così è il pigro per chi gli affida un incarico il pigro dice fuori c'è un leone se esco sarei ucciso per strada la porta gira sui cardini così il pigro si volta nel suo letto sono passato vicino al campo di un pigro alla vigna di un indolente ed ecco dappertutto erano cresciute le erbacce il terreno era coperto di rovi e il muretto di pietre era tutto sbrecciato osservando riflettevo pensandoci mi è venuta questa lezione un po' dormire un po' sonnecchiare un po' incrociare le braccia per riposare e intanto s'avanza passeggiando la miseria e l'indigenza come una cattone grazie Giacomo eminenza sempre vivace comunque la sapienza popolare naturalmente qui sono tanti frammenti che sono stati uniti insieme dal libro dei proverbi tra l'altro anche qui esiste tutta una letteratura a partire da Dante forse qualche nostro telespettatore che conosce un po' Dante ricorda quella figura di uno contemporaneo di Dante il liutaio Belacqua nel quarto canto del Purgatorio il quale è lì sdraiato sfinito è proprio la rappresentazione anche perché stava nella sua bottega sempre così stando alla memoria anche che si connette alla figura che Dante vuole evocare e si stupisce di loro due che hanno così fretta di camminare cioè di Dante e di Virgilio e c'è la figura per esempio questa meno nota probabilmente ma altrettanto folgorante di un romanzo credo sia del 1850 53 di Russo di un Russo Goncharov Oblomov che ha dato anche origine a una forma italiana rara dell'oblomovismo che è questo personaggio un protagonista buono tutto sommato ma del tutto inerte che vede sfuggire dalle sue mani quasi come sabbia perdere i suoi beni perdere anche la fidanzata e alla fine si riduce così solo isolato triste ma senza però contento di essere immerso nel suo vuoto ecco nei nostri giorni è forse la rappresentazione più terribile forse quella del drogato che si accascia non ha più nessun interesse purtroppo questo è il simbolo anche dell'indifferenza della superficialità dell'inconsistenza eppure eminenza se pensiamo alla pigrizia per come la intendiamo quest'oggi altri vizi capitali ci risultano magari così più evidenti come vizi in sé per sé la pigrizia tutto sommato uno potrebbe trovare degli alibi a se stesso dire vabbè essere un po' pigri tutto sommato non sarà poi chissà che cosa e invece è annoverato proprio fra i sette vizi capitali beh forse per questo vale quello che San Paolo scrive nella seconda lettera ai cristiani di Tessalonica questi cristiani erano stati avvolti come spesso avvolti coinvolti e travolti poi alla fine come accade in certi certe sette in certi gruppi fanatici dalla dalla tensione apocalittica attendevano la fine del mondo imminente si ricordi che qualche gruppo religioso dava anche la data precisa e allora che cosa avevano fatto se erano ormai sta per arrivare Cristo è inutile che noi continuiamo a lavorare a impegnarci nella famiglia e si erano quasi accasciati ecco in questa luce Paolo diventa feroce entra quasi con una con una spada e formula quella definizione dopo aver criticato ciscuno di voi deve lavorare dice porta il suo esempio ha lavorato noi sappiamo che a Corinto fabbricava persino lavorava tessuti probabilmente tende tende militari ebbene lui stesso porta come esempio di non essere mai stato di peso alle comunità e formula quella frase e per questo fa capire quando può essere pericolo chi non lavora neppure mangi che è diventato tra l'altro questa frase senza citare che fosse Paolina è entrata nella costituzione dell'unione sovietica messa da Lenin aveva messo questa frase per indicare come però esiste alla fine l'indifferenza questo abbandono diventa alla fine causa di devastazione sociale e anche di devastazione della persona la persona che non ha più nell'interno della tradizione e qui concludiamo questo capitolo particolare della pigrizia nell'interno della tradizione spirituale esiste una vizio che si chiama achedia in greco che è diventata la nostra acidia ed era la tentazione del monaco che nel pomeriggio sotto un sole incandescente nell'interno della sua tenda è lì e si lascia lentamente trascinare quasi verso una morte spirituale è come non prendere la propria vita in mano e non farne un capolavoro come diceva qualcuno ce ne andiamo in pubblicità dopo la pubblicità aggiungiamo qualcuno alla nostra chiacchierata anche per capire come abbiamo già accennato l'ira è presente nelle nostre vite quotidiane e soprattutto nei nostri telegiornali capiremo anche come la pigrizia fa parte purtroppo della società moderna dopo la pubblicità di vizi ed intorni stiamo parlando questa mattina con sua eminenza cardinale Ravasi che è tornato a trovarci in studio e si è aggiunta Giulia Tosana responsabile comunicazione e marketing del cortile dei gentili a cui diamo il buongiorno ben trovata buongiorno Giacomo buongiorno Antonella buongiorno Eminenza allora stiamo parlando in particolar modo oggi di ira e di pigrizia cominciamo dall'ira con te come sempre cerchiamo di dare uno sguardo alla contemporaneità a come viene affrontata anche ai mezzi di comunicazione attuali e generalmente riscontriamo sempre una presenza di vizi anche nell'epoca moderna l'ira non fa eccezione assolutamente anzi è noto purtroppo che nell'epoca dei social network l'odio trova grandissimo spazio online anzi internet è diventato il luogo per eccellenza dell'odio popolato dai cosiddetti leoni da tastiera che protetti dall'anonimato e da lo schermo del loro pc sfogano la loro ira gratuitamente su tutto e tutti online hanno addirittura un nome ormai questa tipologia di utenti gli haters gli odiatori quindi l'ira li definisce li caratterizza da loro una vera e propria identità perché questo succede sicuramente perché c'è la tendenza a non considerare il mondo virtuale come reale e quindi online si ammettono degli atteggiamenti che nella vita di tutti i giorni non si adotterebbero difficilmente qualcuno incontrando una donna che non conosce per strada le direbbe mai ma come sei vestita male come sei brutta e invece sappiamo tutti perché se ne parla tanto ultimamente che è facilissimo trovare commenti anche molto offensivi sotto fotografie di attrici modelle ma anche di giornaliste politiche o donne comuni una cosa interessante da sottolineare però è che sono spesso anche gli stessi social network ad alimentare un pochino questa dinamica di odio perché i commenti arrabbiati piacciono di più creano più engagement ottengono più like ottengono più condivisioni interazioni e quindi gli algoritmi dei motori di ricerca e dei social network li favoriscono e questo fa sì che l'odio viaggi più velocemente e di più online e quindi gli utenti siano a loro volta esposti più esposti all'ira più esposti alla rabbia e in un circolo vizioso più propensi a creare nuovamente contenuti arrabbiati Eminenza abbiamo detto che non è un fenomeno nuovo ovviamente siamo partiti addirittura dalla Bibbia quindi diciamo che ce lo portiamo avanti da tempo quello che stupisce è un po' questo circolo vizioso che poi si crea ovvero il social che alimenta lo stesso odio già provato dai singoli in una società che come ci diceva lei però fa dell'ira un cavallo di battaglia ma anche io parlo nei discorsi quelli tra virgolette autorizzati cioè ci si sente anche da parte di chi ha magari il potere l'autorità in diritto di esprimere quell'ira proprio per creare un seguito come ci diceva Giulia e beh sì ha già detto lei bene questo meccanismo che è un meccanismo ormai che fa parte quasi di un capitolo della grammatica televisiva e della grammatica della società e soprattutto della comunicazione di massa e purtroppo qui è questa sorta di desiderio di penetrare nelle latebre oscure si diceva una volta nell'oscurità della persona umana e il nodo di vipere insomma che c'è dentro in tutti e quel nodo lì è paradossalmente più interessante che non il bene non per nulla si suol dire che è naturale che uno scandalo un crimine suscita più attenzione che non la descrizione per fortuna adesso lo si fa anche di una buona notizia o di un atto di generosità insomma ci sarebbe ognuno rispondesse nel proprio perché la virtù non fa notizia non fa scalpore forse dovremmo essere noi i primi a renderla tale insomma a farla rendere tale nella nostra vita e anche magari a comunicarla a quelli degli altri visto che di comunicazione si tratta comunicazione che non è esente nemmeno dal vizio della pigrizia ma in che modo secondo te Giulia? Senz'altro è noto che l'utilizzo di cellulari smartphone tablet ci rende mentalmente pigri basti pensare che non ricordiamo più numeri di telefono date indirizzi stradali appuntamenti perché ci sono dei dispositivi elettronici dei software che lo fanno per noi c'è da dire poi che i social network possono essere anche alienanti soprattutto per i giovanissimi offrono contenuti fruibili 24 ore su 24 comodamente dal proprio divano simulano interazioni che possono essere vissute all'interno delle mura della propria cameretta e quindi sicuramente non incentivano a combattere la pigrizia però è molto curioso notare come i social alimentino anche una tendenza tipica della nostra epoca che è contraria alla pigrizia ed è la cosiddetta FOMO fear of missing out quindi la paura di essere estromessi di perdersi qualcosa letteralmente perché perché i social mostrano continuamente frammenti di vita di altri dipinti come momenti bellissimi divertentissimi e quindi si genera nelle persone una vera e propria ansia che può diventare anche invalidante e un bisogno di fare di partecipare a queste attività per non essere da meno quindi ecco forse nel caso della pigrizia è sbagliato dire che i social network l'alimentino e basta alimentano comunque una dinamica non positiva ma anche opposta alla pigrizia Eminenza questo ci porta anche un po' riflettevo mentre Giulia parlava al cortile dei gentili di fatto è una realtà in cui si innesca il dialogo proprio per uscire da quel da quel cardine di ira pigrizia o comunque dei vizi che abbiamo trattato in questo periodo proprio perché andare al di là della credenza del singolo quello che diceva Giacomo magari farsi anche delle domande personali sul perché ci interessa di più il vizio della virtù al cortile dei gentili per esempio è un posto dove tutti i credenti e non possono mettersi a innescare quello che diceva Giulia magari una pigrizia positiva un'ira positiva ci diceva lei appunto quel senso di volere la giustizia invece che l'ingiustizia sì due note soltanto conclusive a questo punto in un discorso abbastanza complesso come questo la prima è indubbiamente quella che si riferisce al cortile dei gentili la possibilità cioè di scoprire che con opzioni religiose ideologiche antitetiche è possibile convergere sulle dimensioni etiche di base su ira e su pigrizia ma su tutti gli altri vizi quindi credo che questo sia veramente uno stimolo dovremmo proporre più spesso queste riflessioni di morale generale seconda riflessione invece su quanto diceva Giacomo che mi sembra fondamentale che anche lei ha evocato e cioè che la virtù è meno attraente del vizio anche perché ha alla base un grande peccato che è il moralismo la predicazione noiosa della virtù per questo che sarebbe l'ideale adesso ricominciare da parte nostra a far vedere quanto è affascinante anche parlare per esempio della speranza o parlare della giustizia o parlare della temperanza e in questo Giulia noi abbiamo parlato dei social abbiamo lì un tablet che monitora sempre l'attività tra l'altro presenta anche i riferimenti del cortile dei gentili ma non sono quelli il problema in sé per sé forse siamo noi che dovremmo avere un po' quella bussola interiore per poter gestire il tutto e non essere dominati da quelle correnti di ira che vengono portate o quelle correnti a cui veniamo lasciati noi individualmente assolutamente sì è chiaro che la soluzione non è demonizzare la rete o smettere di usare gli strumenti che abbiamo a disposizione con cui si può fare anche del bene ma è promuovere comunque un'educazione all'uso dei mezzi consapevole e anzi utilizzare queste risorse proprio per creare quelle occasioni di incontro e confronto reale in modo tale appunto da promuovere tanti cortili dei gentili virtuali e utilizzare al meglio lo spazio che abbiamo noi vi ringraziamo Eminenza mi sembra di aver capito che ci siamo dati un appuntamento per le virtù noi lo speriamo perché è stato un bellissimo viaggio questo all'interno dei vizi che abbiamo fatto insieme a lei ovviamente su Eminenza il Cardinal Ravasi e anche a Giulia che ci ha portato un po' ecco lo sguardo dei giovani delle nuove generazioni e anche di quei social che demonizziamo tanto ma che talvolta ci possono anche essere utili grazie a Giulia Tosana grazie a Su Eminenza il Cardinal Ravasi rimanete pure comodi noi ci salutiamo col pubblico e poi salutiamo tutti quanti voi e ci salutiamo fino a domani naturalmente perché noi domani mattina alle 7.30 ritorniamo qui riapre di buon mattino avremo anche l'occasione di parlare di una figura rimasta nel cuore di tantissimi che è quella di Don Milani adesso apriamo le porte del mio medico la medicina la salute entrano qui a TV2000 e lo fanno con Monica e Fabiola a voi